E' arcinota purtroppo a livello nazionale la questione ambientale di Taranto. Si tratta di ripristinare il sacrosanto diritto alla vita, alla salute. Ne parliamo con Antonio Scalera, candidato al Consiglio regionale pugliese, con la lista Puglia domani, fitto presidente. Innanzitutto la salute del cittadino deve essere sempre al primo posto. Per questo ho chiesto al presidente Fitto una particolare attenzione, quando ha scritto il programma, proprio al momento ambientale per Taranto e per la provincia di Taranto. Salute, lavoro e sviluppo del territorio sono tre cose che non possono essere messe da parte o trascurate. Io ritengo che questo territorio ha le potenzialità per avere uno sviluppo economico, sociale e culturale molto importante, molto forte. Nel programma del presidente ne abbiamo parlato e discusso. Io ritengo che con la nostra vittoria queste tre cose saranno tre priorità che porteremo avanti. Grazie a tutti.